Siamo con Marco Villa, Marco allora quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare, altra finale? Sì, beh naturalmente da campioni olimpici ci aspetta, poi ormai manca poco alle prossime Olimpiadi, dico poco perché questo è l'ultimo mondiale prima delle Olimpiadi, era importante fare bene. Avevamo anche della responsabilità perché è un periodo un po' particolare e anche da parte mia le critiche sul fatto che porto via gli atleti alla strada non mi sono piaciute. A chi in particolare ti rivolgi a qualcosa? Vuoi toglierti un sassolino dalla scarpa in particolare? No, sembra che fare un mondiale in pista rispetto a un mondiale in strada è denigrante, però ripeto sempre che è una scelta che fanno gli atleti, se Filippo Ganna, Milan, Consonni, Viviani hanno voluto fare altri 4 anni e arrivare a Parigi, tre anni perché è il triennio olimpico, è una scelta loro, quindi io sono qua, li aspetto sempre, però ci sei rimasto male da parte di certe critiche, certo è anche vero però che la concomitanza di certi eventi mondiali come quest'anno, questa invenzione nuova, un po' inedita, di mettere insieme tutti i mondiali non agevola la multidisciplinarità? Non agevola, dipende, io continuo a ripetere che dà più fastidio a un Filippo Ganna, la gara su strada domenica di 270 km, se vuole provare a rivincere la crono 5 giorni dopo, che queste tre prove di 4 km al giorno su pista, stamattina Pippo è uscito su strada, adesso qua ha fatto riscaldamento e 4 km, questi sforzi credo che per una cronometro li facciano molto bene. Per la crono sì, per la prova su strada ovviamente no, forse questa è un po' la vicinanza di certi eventi, no? Ho capito però, lui voleva fare la crono, è dall'inizio dell'anno che ha deciso di puntare a provare a rivincere il mondiale a crono e a mio modo di vedere i 270 km di domenica un po' disturbano, uno che vuole provare a vincere la cronometro, dopo però invece dà sempre fastidio alla pista. Senti, rimanendo invece sulla pista, passando le cose liete, diciamo così, altra finale, ancora con la Danimarca, quindi ci si rincontra, parlavamo anche di Olimpiadi, e oggi abbiamo visto un po' delle novità, abbiamo visto la Monterso Uomo, abbiamo visto con Sonny in panchina, diciamo così, scelte nuove, un po' inedite, ragionate sicuramente anche con i ragazzi, come è andato l'avvicinamento alla gara di oggi? No, Simone dal Giro d'Italia non ha ancora recuperato bene la sua condizione, ha provato a staccare, ha provato a riprendere, addirittura fino a dieci giorni fa lui stesso si metteva in discussione, poi al Giro di Valogna ha avuto qualche segnale di ripresa, ha voluto venire qua, ieri mi serviva un campione olimpico di carattere, perché affrontavamo una qualifica dove non avevamo parametri, andavamo un po' a fare una prova nel buio e quindi si è messo a disposizione. Oggi abbiamo inserito Moromaglio, avendo già qualche parametro in più, avendo capito un po' come girare e anche Moromaglio ha dimostrato di avere un grosso carattere e entrare in questo quartetto olimpico. Rapporti, scelta di rapporti, oggi avete usato i rapporti olimpici sempre per capirci, 63 mi pare? 63-14 Ganna, Lamone, Moromaglio e 64 Milan, come a Tokyo. Ieri era forse un po' esagerato, però mi erano già partiti con quest'idea da Montichiari. E' stato anche perché erano ancora un po' imballati o hai visto anche un po' di difficoltà ulteriori? No, ieri la pista era lenta e questo rapporto si è risultato troppo duro, però volevano provare a ripresentarlo perché a Parigi se vogliamo prendere una medaglia questo rapporto minimo dobbiamo tirare e allora hanno voluto lavorarci. Ieri era troppo azzardato, oggi alzando i ritmi si è dimostrato già un buon rapporto. Rapporto poi soprattutto in vista di domani, Marco, ultima domanda, gran finale, quindi ancora contro la Danimarca. Chi vedremo? Il quartetto di oggi confermato? Cosa ti passa per la testa e cosa ti passerà a lungo tra stanotte e domani? Un'idea ce l'ho, ma naturalmente mi confronto sempre con i ragazzi. Un gruppo di ragazzi che si rispetta e sa valutare quasi come me le situazioni, quindi ci troviamo molto. Abbiamo tutto il tempo domani mattina per far colazione insieme, per ragionarci. Oggi li mando a letto senza parlarci. Puoi dire in sintesi com'è la serata e la giornata di domani del quartetto d'oro, del quartetto olimpico di Tokyo e adesso di nuovo, nuovamente in finale qui al campionato del mondo? Stasera? Io stasera, adesso ho la finale dello scratch della Martina Finanza, quindi arriverò più tardi in albergo. Non so se li trovo a cena, qualcuno sarà già a letto o a fare i massaggi. In camera dei massaggi non entro mai e quindi li trovo domani mattina. E poi domani mattina rifinitura in pista? No, stamattina sono usciti a fare un paio d'ore su strada. Domani è uguale? Domani mattina credo di sì, sì, sì. E poi i nomi dei quattro che deciderai quindi domani? Ci confronteremo assieme. In bocca al lupo Marco domani. Credo di essere.